E sono due, e sono due, e sono due, e sono due alla faccia vostra, alla faccia vostra, bufini in merda, sono due, e sono le altre che quest'anno rimarranno a zero titoli, e qualcun altro che rimarrà a zero titoli, e sono due. Anzi, anzi, i gobbi, se mai non verranno incappettati a secco dalla UEFA, dovranno ringraziare anche l'Inter, che vincendo la Coppa Italia, li mandano, se restano settimi, li mandano in Conference League. Quindi pensa un po' com'è il destino, com'è che era, com'è che era, brutta e merda, arriverete festi, do, do, godo, cazzo, godo, due, due coppe, due. E ora, e ora, e ora, calma, dobbiamo fare due cose. La prima, la più imminente, fare quello che ci serve in campionato, fare il punto che ci serve in campionato, e poi, quindi, blindare alla penultima giornata la zona Champions, e poi l'ultima giornata col Torino, mandare in campo la primavera. Mandare in campo la primavera, perché quello dobbiamo fare, signori. Perché a un certo punto, gli ultimi dieci minuti del secondo tempo, non ne eravamo più, eravamo cotti. Eravamo cotti, la Fiorentina riusciva in maniera troppo facile, troppo facile a entrare, a fare cross. E' vero che, quando è uscito il punto, continui a buttare palloni dentro, devi difenderti, quelli entramo in aria con sette, otto, nove uomini. E' chiaro che è una situazione che va a vantaggio di chi attacca e non di chi difende. Però siamo stati bravi, bravi e fortunati, Andanovic, miracoli e bestemmie, perché, insomma, ha fatto un miracolo camuloso su Jovic, però un paio di uscite, eh. Insomma, alla vecchia Andanovic, fortunatamente su quel colpo di testa a Nico Gonzalez c'era San Darmian, che si è sostituito ad Ambrosio e ci ha salvato il culo. Quindi, partita, a un certo punto, l'Inter ha iniziato malissimo, malissimo, ma loro, diciamo che loro andavano forte, eh. Dopo aver segnato tutto un gol, praticamente, a difesa schierata, abbiamo preso un gol che non devi mai prendere. E l'atteggiamento che abbiamo avuto nei primi venti minuti era l'atteggiamento che io temevo. L'atteggiamento di chi sa di essere favorito, l'atteggiamento di chi sa che è più forte, e non va bene. Non va bene perché quello è un gol brutto da prendere. Un gol brutto dove si perdono i ferimenti in aria, dove loro hanno palleggiato facile, dove i centrocampisti non hanno aiutato. E finché loro hanno ottenuto la pressione alta, noi abbiamo avuto veramente poca lucidità nei passaggi. Abbiamo rischiato anche di prendere, non dico il 2-0, ma comunque loro hanno avuto tiri pericolosi. E quindi, quei venti minuti ci dobbiamo far ragionare. Poi siamo usciti, siamo usciti noi e davanti abbiamo un mostro che, quando è in forma, quando è in fiducia, è devastante. E' devastante, Lutaro Martinez quando è in forma è devastante. Il secondo gol è un gol da punta vera, da chi ha l'essere attaccante nel sangue, un gol acrobatico. C'è tutto in quel gol lì, c'è tutto. Una palla neanche semplicissima da impattare, un bel passaggio di Barella, come è stato bello il passaggio di Brozzo per il primo gol. Tanta roba, tanta roba. Poi, insomma, abbiamo avuto le nostre occasioni per poter fare il terzo, noi le abbiamo fatte su tutta quella di Gosens. Dove è arrivato un centimetro lungo e la palla è buttata fuori, peccato. E il tiro di Lukaku, che è entrato, ha iniziato bene e ha finito male. Non mi è piaciuto. Ho letto un po' così al volo, prima di iniziare a fare i video, ragazzi, alcuni di voi che hanno iniziato a dire i cambi di Inzaghi, i cambi qua e i cambi là, ragazzi. Ma cosa avrebbe dovuto fare Inzaghi? A quelli in campo, a quelli in panchina. Ora, capite quanto è importante Mkhitaryan per questa squadra? Perché se gioca Mkhitaryan vuol dire che tu in panchina hai uno tra Barella, Brozovic e c'è la Noglu che possono entrare e dare una mano. Se non gioca Mkhitaryan, che cos'è non ha fatto un grandissimo campionato, tu devi far giocare i tre titolari e in panchina, praticamente, ha tolto Aslani, che è un ragazzo di talento, non è nessun altro, ha dovuto un dibuttamento con Gagliaddini, ma ci sta, ci sta, perché a un certo punto la squadra non ne aveva più. Ha tolto Lautaro per mettere Correa, cambio giusto, non ne aveva più Lautaro. Ha messo dentro un giocatore che teoricamente in contropiede poteva fare qualcosa. Ma lì è stata tutta la squadra poi che a un certo punto si è abbassata troppo. E loro veramente riuscivano in maniera semplicissima ad entrare dentro. Però più è sofferta la vittoria, più è godurioso, più è goduriosa. E quindi tanta, tanta, tanta roba. Portiamo a casa il secondo trofeo stagionale e ora questo sì, come ho detto, ci permette di andare ad Istanbul belli, tranquilli, con la testa sgombra che quello che dovevamo fare in campionato, in Italia l'abbiamo fatto. Ci basta un punto, speriamo di farlo sabato, ci basta un punto con l'Atalanta per poter andare in Champions, speriamo di farlo. E poi veramente col Torino dentro, dentro tutte le riserve. Dentro Bellanova, Aslani, dentro tutti i ragazzini della primavera, dentro Kordaz, che metta in campo chi cacchio volete voi, non mi interessa. Devono riposare tutti perché a un certo punto ragazzi eravamo cotti, eravamo cotti, cotti, cotti. Comunque signori, tanta, tanta roba, grandissimo godimento. Ripeto, noi quest'anno alziamo di nuovo due trofei. C'è chi invece è stato campionato l'Italia l'anno scorso da miracolato, che quest'anno ci guarda così. Ci guarda e andrà a casa con 0, 0, 0, 0 titoli. 0 titoli, ve lo ripeto, 0 titoli. E neanche loro sono sicuri di andare in Champions. E nemmeno loro sono sicuri di andare in Champions. Quindi, molto bene, noi ci rivediamo. A sto punto, dopo Inter-Atalanta, sperando di riuscire a fare quel punto che ci serve, e poi penseremo a quello che sarà, alla bellissima cosa che ci siamo guadagnati, che ci siamo andati a prendere con forza, ovvero la finera di Champions League a Istanbul. Vi saluto, vi auguro una buonanotte. Domani sarà ancora bellissimo alzarsi, andare a lavoro, a scuola, con magari uno stemma dell'Inter tipo questo. E guardate di in faccia i tifosi delle altre squadre, perché tolti i tifosi del Napoli, ovviamente, che sono campioni d'Italia, tutti gli altri, quando passiamo noi, devono camminare a testa bassa. Tutti. Buonanotte. Prima di farlo, come sempre. Forza, forza. Forza Inter.